ragazzi che mi leggete su elaborare oggi ci vediamo anche in video di cosa vi voglio parlare vi voglio parlare della punto abart una vettura veramente apprezzata da noi italiani dove la trovate questa vettura lo trovate su elaborare 253 di ottobre che se non trovate in edicola o non avete ancora acquistato lo potrete anche comprare online andando semplicemente sul sito elaborare.com cliccando sulla sezione shop e allora veniamo all'articolo a questa prova sono andato a provare in salento questa vettura una vettura che secondo me di base ha veramente tanto potenziale i 155 cavalli erogati dal 1400 tjet non sono tantissimi per la tipologia di auto sportiva secondo me ma con un piccolo incremento della potenza ci si può veramente divertire soprattutto in pista e allora Giuseppe il proprietario di questo punto che pensate l'ha comprata dal 2009 e ancora oggi se la vedete sembra una vettura praticamente nuova ancora la coccola come se fosse il primo giorno Giuseppe si è rivolto alla Autek di Lecce che ha provveduto a potenziare il motore fino a 240 cavalli questo come ovviamente sono andati a sostituire la turbina di serie con un td04 della Mitsubishi una preparazione molto comune su queste tipologie di motori e poi si sono anche andati a sostituire alcuni elementi interni del motore come bielle pistoni si è lavorata la testata insomma non vi sto adesso a raccontare tutti i dettagli con questa configurazione con una pressione della turbina di 1,4 bar come dicevo si sono raggiunti 240 cavalli mentre scendendo a 1,2 bar si arriva a 221 cavalli devo dire un valore di tutto rispetto che consente appunto ottime performance in pista questa vettura l'ho provata addirittura in estate e devo dire che si è comportata benissimo mantenendo sempre un'ottima affidabilità mi sono divertito tantissimo la guida di questa punto devo dire migliorata molto rispetto alla vettura originale e come sapete è una vettura comunque più stabile rispetto alla sorella la 500 abarth e questo le consente anche delle velocità di percorrenza in curva superiori con una maggiore appunto sicurezza in curva l'assetto è stato un pochino rivisto tramite l'adozione di sospensioni bilstein e molle ribassate e poi appunto il motore ha ricevuto questa preparazione tutto sommato soft perché con una spesa contenuta si possono raggiungere 85 cavalli in più rispetto alla versione originale ma se siete curiosi proprio di della punto abarth vi ricordo che su questo numero d'ottobre trovate anche l'articolo del mio collega per luigi mancini che invece ha provato una punto multiere addirittura più potente di questa da 268 cavalli ma adesso mi fermo qui con le chiacchiere perché trovate tutte le informazioni su elaborare di ottobre ciao alla prossima ciao